Ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale attenzione assoluta a questo mese di giugno per la previsione di ambata rapida più ambo infallibile che arriva puntuale anche questo mese la giocheremo a partire dall'estrazione di giovedì 3 giugno il mese scorso vi ho regalato le ambate 6 e 60 sulla ruota di Bari 3 colpi abbiamo vinto il 60 a Bari subito e potete notare la vincita ma con quel 60 ci siamo portati a casa anche l'ambosecco 60-63 nella previsione completa di amba infallibile proprio nell'estrazione del 6 di maggio questo mese attenzione a prendere la previsione di giugno completa perché dire che è forte e dire poco è una bomba pronta ad esplodere qui andremo a vincere l'ambosecco con amba infallibile per l'ennesima volta questa è una previsione che paga ogni mese da anni e questo è l'ennesimo ambo vinto lo scorso mese 60-63 ambate regalate a tutti 6 maggio 60-63 Bari ambo infallibile vi regalo attenzione tre colpi di gioco a partire dall'estrazione di giovedì 3 giugno le ambate secche 9 e 90 Bari nazionale anche in seconda e quarta posizione determinata ok attenzione uniamo anche le due ambate per formare un ambo jolly 9 e 90 Bari nazionale quest'ambo però lo giochiamo per tutto il mese di giugno le ambate tre colpi l'ambo tutto il mese c'è il 90 un 90 Bari attesissimo attenzione vi dico alla previsione di ambata rapida più ambo infallibile per giugno modalità vincita avvenuta vi darò i soliti 6 ambi Bari nazionale da giocare per tutto il mese di giugno con pagamento soltanto se esce l'ambo a ruota è una previsione fortissima chi non l'ha presa lo scorso mese o gli altri mesi perdendo un sacco di ambi e perdendo l'ambo 60-63 lo prenda questo mese lo prenda perché è veramente potente contattatemi per aderire alla modalità vincita avvenuta e quindi con impegno da parte vostra di giocata al numero 348 7547 715 per avere la previsione completa di ambo infallibile con i capi giugno 990 Bari nazionale avremo tre abbinamenti ambo da abbinare ad ogni ambata quindi avremo sei ambi secchi micidiali la previsione di questo mese potrebbe darci un'altra ottima soddisfazione come è stata questa mese scorso 60-63 sulla ruota di Bari non la perdete nella maniera più assoluta questa è una previsione che io la presento ogni mese e voi ogni mese dovete prendere la revisione completa in modalità vincita avvenuta perché chi ha questa previsione da anni ogni mese va a centrare l'ambo a ruota è capitato qualche mese ma pochissimi uno due mesi nell'arco di un anno che è uscita solo l'ambata ma non è uscita solo l'ambata ne ha pagati 5, 6, 7 quando non è uscito l'ambo quindi è raro che non esca l'ambo secco quindi attenzione alla giocata di questo mese di giugno perché andremo veramente a fare il botto se tutto va bene perché i capi gioco sono pazzeschi per adesso un saluto a tutti Mister Sbancolotto